Questa sera a Caserta arriva il treno verde di Lega Ambiente nell'ambito della 26esima edizione della campagna per il monitoraggio dell'inquinamento acustico e ambientale. Il convoio ambientalista è partito il 13 febbraio da Palermo e resterà in città fino a domenica 2 marzo. Siamo con Gianfranco Tozza, segretario del circolo Lega Ambiente di Caserta e del direttivo regionale, che ci spiegherà un po' in cosa consiste la manifestazione. Il treno verde è una manifestazione antica di Lega Ambiente e vuole comunicare ai cittadini i valori dello sviluppo sostenibile. Quindi una città a misura d'uomo dove la mobilità è sostenibile, non inquina, una città intelligente. A Caserta durerà tre giorni e oltre alle attività canoniche del treno verde, quali la misura dell'inquinamento in città, sia acustico che da inquinanti da traffico, ci sarà un'iniziativa, una focalizzazione sulle attuali problematiche della terra dei fuochi con il convegno di sabato mattina presso la biblioteca di Ocesana dove si traccerà lo stato dell'arte della bonifica dei siti dei SIN e in particolare del SIN Litorale Domizio e Agroaversano. I risultati delle analisi saranno resi noti lunedì mattina, però in questi tre giorni saranno tante le attività e le iniziative lungo la città, soprattutto per coinvolgere i giovani, gli studenti. Sì, il treno verde venerdì mattina è visitabile dalle scuole con visite guidate su prenotazione. Venerdì pomeriggio ci sarà la presentazione di un libro sulla terra dei fuochi, un'iniziativa molto simpatica dove i migliori chef della Campania hanno preparato delle ricette con l'utilizzo dei prodotti tipici della Campania. Gli allievi della scuola alberghiera di Caserta si incontreranno con gli allievi della scuola alberghiera di Torino per concordare una specie di gara da fare a Torino sulla base di ricette che entrambe le squadre prepareranno con l'impiego dei prodotti campani. La mobilità sarà misurata con il trofeo Tartaruga che consiste in questo. Tre squadre partiranno da uno stesso punto della città nelle vicinanze dell'ospedale civile e arriveranno alla stazione di Caserta, la stazione ferroviaria. Le tre squadre, una andrà a piedi a percorrere questo percorso, una seconda squadra dove sarà presente anche il sindaco di Caserta, andrà con il mezzo pubblico e una terza squadra con l'auto privata. Si cronometreranno i tre percorsi e quindi si assegnerà questo trofeo a chi in minor tempo ha percorso il tratto così descritto.